Tra i partner di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 c'è anche CNA che vede in quest'anno una grande opportunità per la città e le imprese. Un'adesione convinta di tutto il sistema CNA per una grande opportunità per la città di Pesaro, per la provincia di Pesaro Urbino, ma per tutta la regione. Quindi un'adesione che viene dalla CNA nazionale, la CNA regionale e ovviamente la CNA di Pesaro Urbino perché i nostri imprenditori hanno bisogno di visibilità e un'occasione come questa è straordinariamente importante e la dobbiamo sfruttare al meglio ed è un'occasione che la CNA sarà ovviamente protagonista insieme a tutto il sistema di Pesaro Capitale della Cultura 2024. Ci sono diverse iniziative di livello nazionale e regionale che verranno declinate appunto su Pesaro. Abbiamo iniziative di ogni settore e ogni mestiere, nelle location più importanti che faranno conoscere a tutta Italia la bellezza e la straordinaria capacità anche di accogliere che ha una città come Pesaro e la CNA aiuterà questo come sistema provinciale, regionale e nazionale perché davvero abbiamo molte iniziative in campo. Ovviamente la nostra sponsorizzazione avrà un ruolo fondamentale anche nella riqualificazione della Sala Laurana del Palazzo Ducale della Prefettura che sarà il momento più importante di questo anno per noi ma ci sono anche tante altre iniziative che verranno protagonisti anche i nostri artigiani che faranno grande questa possibilità. Effetti positivi quelli nei confronti delle imprese che si sentiranno in futuro ma che già si stanno avvertendo nella presente. Un'occasione di riscatto nei confronti degli anni di crisi pandemica che ancora si fanno sentire. Io penso che gli imprenditori avranno un grande beneficio perché noi siamo in un territorio che a livello di manifattura soprattutto ha un grande pregio quello di fare cose di grande qualità ammirate in tutto il mondo. Purtroppo abbiamo sempre avuto un gap per quello che riguarda la visibilità e la capacità di proporci noi nel mercato globale. Questa è una grande occasione invece di visibilità che può aiutare tantissimo imprenditori come i nostri che fanno un ottimo prodotto e che avranno una straordinaria occasione per dimostrarlo a tutti. Su questo non ho nessun dubbio, lo hanno dimostrato le capitali prima di Pesaro e lo dimostra il fatto che quando c'è tanta visibilità poi dopo si prendono quei rapporti che negli anni vengono poi portati a termine anche con affari. Quindi sicuramente questo sarà un volano anche per i prossimi 3-4 anni a venire. Le imprese dopo gli ultimi anni che possiamo definire davvero difficili in certe situazioni anche drammatici io penso che avevano assolutamente bisogno di un trampolino di lancio per ripartire. Lo abbiamo fatto timidamente dopo la pandemia, lo rifaremo soprattutto nel nostro territorio. Io dico non soltanto locale, provinciale ma addirittura regionale lo faremo con grande entusiasmo sfruttando la grande occasione di Pesaro 2024. Stiamo già verificando da parte delle imprese grande curiosità, grande anche voglia di appartenere a questo grande progetto Pesaro Capitale della Cultura 2024 e c'è un fermento che mancava ad anni, quindi ottime prospettive. CNA all'interno del progetto di Pesaro 2024 si presenta anche con due eventi all'insegna della cultura. È già in calendario un'iniziativa di carattere nazionale che vedrà probabilmente partecipare anche il ministro dell'agricoltura Lolo Brigida ad un'iniziativa di CNA per quello che riguarda la cucina come patrimonio immateriale dell'umanità quindi una bellissima iniziativa che ci vedrà protagonisti. Autogiro che è un'iniziativa patrocinata a livello nazionale sempre da CNA ha deciso di fare una tappa importantissima su Pesaro proprio per valorizzare in questo anno la capitale italiana della cultura.